Mai l'azienda ospedaliera di Alessandria e l'ASL-AL avevano lavorato così in sinergia e mai la Regione Piemonte aveva puntato le proprie fisce su un dipartimento interaziendale che vede il suo focus nel lavoro della squadra di Antonio Maconi, direttore del Dipartimento Attività Integrate a Ricerca e Innovazione, DAIRI la sua sigla, che si occupa e fa da supporto alle attività di organizzazione per la ricerca sanitaria e biomedica nelle aziende sanitarie regionali. L'indicazione è contenuta nella deliberazione della Giunta regionale del 18 marzo, che riconosce la bontà del percorso di supporto alla ricerca avviato dal DAIRI, un unicum in Piemonte e un best practice di riferimento, organizzazione, attività avviata e risultati raggiunti. Il modello organizzativo è funzionale al percorso avviato dall'azienda ospedaliera di Alessandria e dall'ASL-AL per il riconoscimento a istituto di ricovero e cura a carattere scientifico in patologie ambientali e mesotelioma. E quando si parla di mesotelioma non può che essere coinvolta anche Casale Monferrato, dove il DAIRI ha aperto una sua sede al fine di rendere il Dipartimento un punto di riferimento per le patologie a svesto correlate, implementando così anche in ASL-AL il modello organizzativo e la metodologia della ricerca strutturata in azienda. Il Dipartimento delle Attività Integrate a Ricerca e Innovazione è stato introdotto nel 2020 con la finalità di operare per l'individuazione e la promozione di sinergie tra la ricerca scientifica e l'attività assistenziale con l'obiettivo prioritario di migliorare lo stato di salute del cittadino attraverso il percorso di riconoscimento dell'azienda ospedaliera di Alessandria e dell'ASL-AL IRCCS e la sinergia con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Il riconoscimento regionale è molto importante ed è un fondamentale traguardo per tutti, ha commentato Antonio Macconi. Io sono un pezzetto dell'ingranaggio, siamo 120 persone nel DAIRI coinvolte nelle attività nei vari livelli della ricerca e non solo. Abbiamo cercato a Casale di ripetere lo stesso schema con i sei livelli di ricerca, ha continuato Macconi. Abbiamo organizzato le strutture e indirizzato il tutto sul tema delle patologie asbesto correlate grazie alle professionalità specifiche, strutturate e non, oltre a quelle convenzionate con lupo.